In meglio, ovviamente In meglio dovrebbe cambiare qualcosa ma perché non cagli mai niente in meglio? Niente, niente Se io non lo so, non cagli mai In peggio, sì In peggio, sì Eh, lo so, lo so Sì, sì, è certo Però il problema non è che sono chi non mi vuole muovere è che non mi posso muovere, non ha questo problema Diciamo così Ah, beh